E' molto carino portato aperto oppure chiuso col bottoncino e anche questo è un giubbino che laviamo tranquillamente in lavatrice e questo non è da sottotitare specialmente nei capi spalla perché magari sono quelli un po' più complicati. Allora è bello in tutti e due i colori, ovviamente il rosso fiammante se volete dare nell'occhio è il vostro colore perché la vestibilità è giustamente aderente, infatti io ho messo una 42, avete visto mi va proprio giusta giusta, però la prenderei così, a me non piacciono vestibilità troppo morbide, deve stare a corpo, piuttosto deve rimanere strizzato, un pochino streminzito piuttosto che abbondare. Scarseggiare davvero. Sì, questo è veramente un amore indossata, regala proprio una bella postura, un po' anche grazie a questa scollatura un pochino più pronunciata del solito, la manichina che accompagna bene e va a compensare il bacino, ha davvero una bella costruzione e una bella proporzione anche di volumi, non è troppo lunga, non è troppo corta, ha questo fiocchetto che possiamo gestire anche per quanto riguarda l'ampiezza della scollatura, possiamo tenerlo a cravattino, sciolto, oppure proprio più leziosetto col fiocchettino. E altrettanto interessante è il taglio sbiecato sotto il seno, che va a vestire molto bene la coppa, quindi anche pensiamo a quelle donne che hanno magari un seno un pochino più generoso, un pochino più pieno. Ce n'è un po' irregolare, sì un po' stropicciata, quindi anche questo è sempre pensato per le vacanze, per l'estate, per la valigia, per essere fresco, ma allo stesso tempo sfizioso. Ecco la nostra Susanna, con il pantalone ampio però, non con i leggings, tu l'hai abbinata al leggings, però guarda che sta bene anche tutto molto morbido così col pantalone. Assolutamente, sono due modi diversi di interpretare lo stesso capo, entrambi efficaci, sicuramente un bellissimo outfit, mi piace anche proprio il verde militare abbinato al nero, mi piace il verde militare con gli accessori color corda, oppure proprio con anche accessori metallici da andare a dare luminosità. Ecco, guardate che bello proprio il bottoncino sulla schiena. Ah, vedi che non si vede proprio il reggisimo così. No, è stato 25 centimetri giusti, quindi dopo l'altezza del reggisimo. Calcolati precisi. Susanna, proprio nel nero, wow! Ecco. Guarda, guarda. Poi questa scollatura non è neanche vincolante, perché mi piace, è portata così, ma tranquillamente magari in ufficio la posso portare con le spalle coperte, è tutto un elastico. Facci vedere come cambiamo anche la scollatura, così. Ecco, è un elastico che va in circonferenza. Visto? Basta un gesto, eh? Basta un gesto. Anche le maniche, tra l'altro, sono sicuramente più scenografiche, tenute aperte, con questo effetto un po' a farfalla, ma si possono anche annodare al gomito, sempre per un discorso così, no? Anche asimmetrico, così, guarda. Anche asimmetrico. Le possiamo annodare? Allora, posso chiedere a Susanna un attimo di venire qui? Chiedo alla regia quando si può fare. Che... Vieni, vieni Susi. E così facciamo vedere la trasformazione delle canzoni. Eh beh, tu lanci l'amo e poi dopo. Io lancio l'amo. Vanti. Ciao Susanna. Io lo porterei proprio così. Dai, fammi vedere come... Palla nuda e... Vediamo la stilista all'opera. E per essere un pochino più comodo, magari sono a pranzo, al ristorante, non voglio fare proprio... ...con le manichine sul tavolo. Facciamo il fiocchettino. Ah, guarda, caruccia, anche così bella. Facciamo anche di qua, che così sistemiamo tutto. Diciamo che se le lasci aperte ti danno una sensazione anche di leggerezza. Sì, esatto. Perché sono perfette anche per le signore più tonde, no? Che hanno le braccia più importanti e non le vogliono scoprire del tutto. Esatto. Se invece le leghi, guarda come diventa anche qui più pratico e meno impattante, diciamo. Esatto. È proprio bella perché è versatile. Ci giochiamo un sacco sia con la scollatura coperta, piuttosto che invece nuda. in base anche all'occasione d'uso. E poi se avessi un pantalone invece del leggings, puoi mettere addirittura dentro la tunichina e rimborsarla leggermente, diventa una camicina un pochino più corta, no? Esatto, anche un pantapalazzo vita alta, magari. Esatto. Se vogliamo proprio enfatizzare il punto di vista. Perché è molto leggero, no, il corpo. È leggero, sì. Poi è bello anche il contrasto della fantasia al centro, una fantasia molto di effetto quasi punto crocino. E poi il tessuto sulle maniche che va un po' a nascondere se siamo un po' formose nelle braccia, però senza avere caldo perché è completamente aperto. Quindi qui davvero abbiamo tutta la libertà. Altro che presa d'aria. Altro che presa d'aria. Qui abbiamo gli spifferoni d'aria. Senti, il nero sta finendo, c'è solo la 50 e sono poche. Il bianco è tutto limitato in questo momento. Io, fossi voi, sceglierei il bianco comunque. Mi piace tanto, anche perché risaltano di più questi fiori. Si può... ... ... ... Grazie a tutti